Devi sbrigare una pratica con la tua auto e non vuoi perdere tempo. Studio Carlea, da oltre 30 anni al servizio dell'automobilista. Sono a lavoro per AIA mezzi meccanici per rimuovere le coballe situate da Giuliano e Villaliterno. Questa mattina c'è stato infatti un sopralluogo dei Verdi per verificare lo svolgimento delle operazioni nei siti di Taverna del Re e lo spesso dopo l'avvio dei lavori con il governatore Vincenzo De Luca. Per il sole che ride era presente una delegazione regionale con il portavoce per la campania Vincenzo Peretti ed esponenti di Giuliano e Qualiano con il coordinatore per l'area nord Giovanni Sabatino. Il cantiere, secondo quello che è emerso, dopo i primi camion ha subito solo un piccolo rallentamento ma i tempi alla fine dovrebbero essere rispettati. Noi ci siamo presi un impegno con i cittadini della campania e cioè di monitorare la rimozione delle coballe. Oggi siamo venuti a fare un sopralluogo per verificare che per fortuna si stanno cominciando a eliminare le coballe dalle piazzole e la nostra attività principale è controllare che entro 18 mesi, ad esempio, questo sito sia totalmente svuotato cosa che la ditta ci ha rassicurato verrà fatto. Ma io credo che più che rallentamenti ci sta l'avvio di cantiere che è sempre un po' complicato. Stiamo parlando di coballe che in alcuni casi stanno da 10-15 anni, di siti dove c'è stato un totale abbandono e non c'è stato più nessun intervento da parte dello Stato. Adesso si aspettano le autorizzazioni perché una parte di queste andranno in siti stranieri e poi si andrà a pieno regime. Siamo convinti che manterranno impegni anche perché se non mantengono gli impegni di 18 mesi pagano delle penali economiche. Il cantiere questa mattina abbiamo trovato che funziona in ottimo Stato, gli operai sono a regime, lavorano e c'è stato anche uno smattimento in più della previsione delle coballe. Una volta a mese noi Verdi, sia dell'area nord di Giuliano, insieme alla consigliere di Qualiano e portavoce regionale dei Verdi e consigliere regionale dei Verdi, Borrelli, saremo a vigilare sul trasporto delle coballe. Se vogliamo tranquillizzare i cittadini che il cantiere sta procedendo, anche se a rilento, i lavori procedono. Intanto dal Marocco giungono proteste e petizioni popolari. Nel paese nordafricano sono in arrivo infatti 2.500 tonnellate di rifiuti made in Italy e secondo i media locali si tratterebbe proprio delle coballe campane. Voci però che vengono smentite nelle ultime ore. I rifiuti che stanno arrivando in Marocco infatti provengono dall'Abruzzo ed almeno in questo caso dunque nessuno stop per Taverna del Rì.